è stato un incontro devo dire molto cordiale importante anche lungo si è deciso come giusto che sia di lavorare uno stretto rapporto istituzionale tra uffici anche diretto tra me il prefetto quindi credo che sia un passaggio importante fatto anche gli auguri perché primo prefetto donna di napoli un prefetto di esperienza che ho visto con tanta voglia di fare e poi con la mi è sembrata una donna che interpreta che vuole interpretare anche con entusiasmo e passione questo ruolo come giusto che lo faccia un prefetto di un'importante città del sud sono città piene di problemi di sofferenze ma con grandissime potenzialità e le sfide vanno affrontate non solo con le qualità e competenze che il prefetto ha ma anche con passione e entusiasmo insomma devo registrare che l'impressione di questo incontro è stato stato positivo ci mettiamo a lavorare e ovviamente il prefetto aveva già visto le mie due ultime lettere una sul comitato provinciale per l'ordine della sicurezza pubblica e l'altra sulla gcom quindi impegni importanti per la città e quindi credo che poi lo chiedete mi sembra più corretto che lo dica il prefetto abbiamo anche concordato la data del comitato